Lice Marchioli benvenuto a questa faccia a faccia per le fonti tv un piacere di averla con noi grazie ben trovati lei è un imprenditore vicepresidente della Confindustria e adesso candidato per la presidenza della Confindustria perché perché io ho un sogno che è quello di cambiare questo paese attraverso le nostre imprese e credo che sia venuto il momento per fare questo grande passo ma se io dicessi che la Confindustria per tante persone sembra un lobby un po' spompato e non più efficace come una volta come risponderebbe rispondere che si possono fare tante cose ancora che più si fa squadra e più si ottengono dei grandi risultati io ci ho provato l'ho fatto all'estero ha funzionato e credo che si possa fare anche in italia ancora più di oggi lei ha fatto per gli ultimi tre o quattro anni credo vicepresidente per l'internazionizzazione che cosa hai imparato in questo ruolo innanzitutto ho imparato ad essere globale nel senso che mi sono sempre più resa conto che le nostre imprese se vogliono crescere e prosperare devono andare all'estero il mercato è il mondo e devono essere più paesi nel mondo perché altrimenti l'abbiamo visto in questi ultimi mesi soprattutto tra guerre problemi di economia problemi di adesso anche di salute non c'è più un mercato solo ma bisogna essere per essere sicuri in diversi mercati però se vediamo il prodotto interno all'oro italiano 1800 miliardi di questo circa 550 miliardi sono merci e servizi il vero traino dell'economia in questo periodo ma cosa si può dire all'amministrazione trump che minaccia dazi che dice italiani state attenti se mettete per esempio una nuova web tax noi risponderemo con nuovi dazi qual è la risposta bisogna ricominciare a parlare col governo americano in maniera seria ed a livello europeo perché purtroppo si può fare solo in sede europea e non si può fare in sede italiana per noi ricordiamoci è il primo partner extra europa come dire per le vendite e per l'export quindi non possiamo farne a meno bisogna ricordarsi anche che per noi dove ci sono accordi di libero scambio l'italia corre non cresce corre alla grandissima quindi abbiamo bisogno sempre più di libero scambio di regole uguali per esempio standard uguali perché questo è un tema di libero scambio fondamentale di riconoscimento delle origini quindi per noi dobbiamo cercare di spingere verso un accordo nuovo con gli stati uniti che ci consente a questo tipo di però insisto donald trump ha attaccato la cina adesso ha dichiarato una fregua la famosa fase 1 accordo che noi americani pensiamo sia un momento di pausa per il voto alla casa bianca e poi ritorna alla carica dopo il voto se viene rieletto l'europa in questo momento cosa deve temere di trump più che temere deve agire cioè deve essere parte attiva per proporsi come alternativa a tutti questi grandi paesi come la cina l'india perché mi sembra un po sparita dalla geopolitica internazionale credo che oggi l'europa deve tornare a fare la sua parte rappresentiamo il paese più grosso al mondo inteso come insieme di tutti i paesi dell'europa il mercato più grosso al mondo quindi credo che l'europa debba tornare ad essere attore protagonista ed essere lui o lei che fa la parte della proposizione del confronto dell'america lo possiamo fare e quindi se lei fosse eletto presidente della confindustria sarebbe una grande priorità cercare di energizzare gli altri confindustri in europa noi stiamo già lavorando con il medef e la bdi che sono le confindustri francesi e tedesche cioè delle prime due manifatture insieme alla nostra le tre manifatture più grosse europee proprio per spingere la politica europea a fare di più nei confronti del resto del mondo e gli stati uniti il primo target ovviamente per tutti quanti e sicuramente potenziare il nostro lavoro in europa come italia è una delle mie priorità però torniamo in italia se un terzo dell'economia export e va bene due terzi è domestic di quel 1800 miliardi e lì non girano i quattrini abbastanza lì c'è una domanda interna fievole soffice cosa fare guardi innanzitutto la riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori sicuramente è un primo passo ovviamente troppo poco quello che è stato fatto ma è un inizio che probabilmente si ripercuoterà sul mercato interno in termini di spesa maggiore da parte delle famiglie e solo una piccola piccolissima parte di quello che va fatto ma si deve insistere in questa direzione e poi si deve continuare a lavorare comunque sul portare le aziende anche le piccole e medie fuori perché lì che si può fare la differenza non è certo sul mercato domestico in questo momento invece quota 100 e reddito di cittadinanza le due politiche economiche del governo giallo verde che lo stesso confindustria ha detto non creano lavoro e non creano crescita qual è la sua posizione su queste due politiche per quanto riguarda il reddito di cittadinanza sono dell'idea che è meglio dare la canna da pesca che non il pesce e quindi aiutare sicuramente chi ne ha bisogno ma in modo diverso inserendolo nel mondo del lavoro per avere una continuità poi nel futuro di reddito e per quanto riguarda invece il discorso di quota 100 abbiamo visto dai numeri perché i numeri parlano meglio di molte parole che non è servito a reinserire o inserire ex novo persone nel mondo del lavoro ma è servito solo ad aggravare il mondo delle pensioni quindi c'è un problema serio e cosa è cambiato con il nuovo conte bis il governo giallo rosso lei da industriale da imprenditore vedi più speranza per per le politiche economiche con questo nuovo governo guardi io credo che manchi una politica industriale in questo momento in italia e questa sia una priorità per confindustria la politica industriale va fatta e va fatta subito perché l'unico asse fondamentale di questo paese sono le imprese che tengono in piedi questo paese quindi noi dobbiamo occuparci visto che nessuno lo fa della politica industriale del futuro di questo paese e la seconda cosa che devo dire che mi sembra troppo timida anche questa finanziaria sul discorso degli investimenti tutto riparte dagli investimenti quindi investimenti non se ne parla e tutto riparte anche dalle infrastrutture che sono già finanziate e non ne stiamo parlando di nuovo nel senso che sono lì ferme che giacciono questi sono punti fondamentali che potrebbero far ripartire l'economia domani mattina cioè l'infrastruttura intendi quei famosi 100 miliardi che sono stanziati autorizzati ma non spese per le opere pubbliche quelli quelli e anche perché abbiamo dimostrato che quando c'è un'emergenza il ponte morandi ce l'ha insegnato si può fare si può fare in fretta ci abbiamo messo un anno e mezzo a ricostruirlo quindi gli strumenti ci possono essere bisogna fare delle gare pubbliche a divenza pubblica ma mettere dei commissari in maniera tale che le opere partano e vadano veloce come deve essere in questo momento storico e secondo lei c'è spazio nell'economia italiana per più partnership tra il pubblico e il privato cito il caso di autostrade dove se la concessione viene revocato forse si può mettere insieme il pubblico privato cito l'esempio di ilva dove chiaramente mr mittel vorrebbe un po di soldi pubblici qual è la sua filosofia sull'idea di non nazionalizzare ma mescolare pubblico e privato il pubblico privato potrebbe in teoria anche funzionare il problema che in un paese come il nostro la vedo molto complicata perché laddove c'è il pubblico di solito non funziona e quindi mi sembra un'ipotesi un pochino pericolosa diciamo così qual è il ruolo della confindustria se lei fosse eletto il 26 marzo quando ci sono le relazioni per la presidenza confindustria quali sono le prime due o tre cose che lei farebbe io credo che la prima cosa sarebbe ristrutturare la nostra organizzazione perché un'organizzazione è pensata in anni diversi tanti anni fa e quindi andrebbe rimesso mano per modernizzare modernizzarla sia nella struttura che nei servizi e questa è la prima cosa potenziare l'europa potenziare l'internazionalizzazione questo per quanto riguarda l'interno e per quanto riguarda l'esterno invece mettere intorno al tavolo persone competenti per ogni settore per poter fare veramente una politica dei prossimi cinque anni del nostro paese per le industrie e rendere questo paese un paese veramente accogliente per le industrie un paese che capisca il valore che ha nelle industrie che ci sono Lei ammetterebbe che negli ultimi 10-20 anni i sindicati da un lato e la confindustria dall'altro hanno forse perso un po' di influenza nel dibattito nazionale? Ma io credo che c'è stato un forte attacco dei corpi intermedi non comprendendo invece l'importanza e la valenza di un corpo intermedio per un paese come questo ora credo che si sia capito finalmente dopo averli attaccati per anni e indeboliti per anni che il corpo intermedio ha un valore straordinario e che bisogna lasciarlo lavorare e questo tra l'altro in un paese come l'Italia che è un paese di individualisti quindi ci vuole qualcuno che raccolga in metà fattore comune le idee di tutti quindi credo che oggi sia il momento per far valere di nuovo la forza e il valore di questo tipo di organizzazione Invece se parlassi di lei e la sua candidatura, lei è l'unica donna candidata in una confindustria che ha avuto in tutta la sua storia una volta una presidente donna, Emma Margegaglia C'è qualcosa che una donna porta a questo lavoro che è più efficace di un uomo? Io non credo che sia una questione di genere, nel senso che credo che l'ottimo sia il lavoro della donna con l'uomo Questo l'ho visto e verificato in tutta la mia vita lavorativa Il tema vero per le donne, lo dico sempre, quando si arriva in queste posizioni è trovare la forza di conciliare la vita lavorativa con la vita familiare e con la vita confindustriale nel caso specifico Questo secondo me è un punto che sarebbe da approfondire moltissimo proprio anche a livello di sistema confindustriale Ma questa confindustria che lei vede nel futuro, una confindustria un po' rivitalizzata se vogliamo Implica una discontinuità, lei addirittura ha detto l'altro giorno in un'intervista con la Repubblica vorrei un po' di discontinuità Però lei è stato vicepresidente della confindustria, non c'è una contraddizione qui? In realtà quando si parla di discontinuità, che è una parola un po' abusata in questo periodo secondo me si deve intendere un cambiamento in positivo ma non di tutto, il mio valore aggiunto è quello che io conosco bene la struttura dell'interno conosco bene la confindustria dell'interno perché ho fatto il presidente di una federazione, quella degli orafi il presidente di una territoriale, quella di Torino e oggi ho fatto la vicepresidente di confiduzia nazionale quindi so perfettamente tutto quello che va potenziato perché funziona e quello che va eliminato perché non funziona è cambiato questo è il valore Infine vediamo l'economia in 2020 perché abbiamo diversi elementi sappiamo che la Brexit c'è quindi non c'è più incertezza su quello sappiamo che Trump per il momento sembra sulle guerre commerciali preferisce qualche tregua armata con la Cina Invece coronavirus quanto è un rischio secondo lei per l'economia italiana e mondiale? È un rischio fortissimo per due ragioni la prima perché per l'Italia il 30% degli acquisti fatti dai turisti in Italia sono fatti a turisti cinesi ora non ne abbiamo in questo momento quindi la batosta la prenderemo tra poco ed è un problema anche per gli acquisti fatti in Cina dai cinesi perché adesso la Cina e le città sono vuote, sono ferme e quindi ci sarà un arresto soprattutto di prodotti ad alto valore aggiunto che noi produciamo in Italia per tutte le più grandi case del mondo che arriverà nei prossimi mesi quindi lo vedo come un rischio molto importante e questo non solo veramente per il lusso ma per tutto quello che è la produzione che arriva dalla Cina anche la materia prima che in questo momento sta cominciando a scarseggiare in alcuni settori Invece sulla Cina ci sono quelle che attaccano la Cina sono molto critici poi ci sono altri che dicono no, non bisogna temere la Cina la Cina è un'opportunità per l'impresa italiana qual è la verità per lì c'è Mattioli? Io credo che la Cina possa essere una grande opportunità ancora oggi per l'Italia ma deve essere gestita con regole chiare perché in questo momento le regole non sono chiare ci sono aziende sovvenzate allo Stato cinese che fanno dumping alle nostre aziende e questo va regolato ci sono problemi di proprietà intellettuale e anche questo va regolato e la via della seta che è un grande progetto del futuro deve essere un progetto che va nelle due direzioni per cui deve essere per i cinesi nel venire in Europa e per gli europei nell'andare in Cina questa è un po' l'idea il governo della Cina da parte dell'Europa Infine se lei diventasse Presidente del Confindustria questa primavera avrebbe davanti a lei un'economia in stagnazione crescita fra zero e un mezzo punto percentuale zero virgola qualcosa e avrebbe un governo che sembra lotta per portare avanti i suoi programmi Quale sarebbe il suo ruolo in questo mix? Io credo che il nostro ruolo sia di dare un aiuto alla politica per le direzioni dell'industria nel senso che di aiutarli come abbiamo fatto sull'estero a capire dove si debba andare insieme per il paese questo è il vero obiettivo e mi lasci dire la cosa che mi piacerebbe moltissimo riportare nel sistema le grandi imprese far stare bene le multinazioni in Italia perché il nostro paese possa ripartire anche per le piccole e medie che sono l'ossatura di questo paese ad essere un paese sempre più forte, sempre più industriale e sempre più proiettato nel futuro Quindi bisogna riportare la Fiat in controindustria per esempio? La Fiat è una delle tante ma non è la sola ci sono tante aziende che sono poco affezionate in questo momento al sistema e che vanno rifatte innamorare come si fa in una coppia dopo tanti anni Dice Mattiore grazie molto per il suo tempo Grazie mille